Buongiorno Marco, Beppe Grillo ha deciso quindi di affidarsi ad un direttorio, i nomi li ricordiamo sono quello di Alessandro Di Battista, rigorosamente in ordine alfabetico, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibiglia e ha chiesto ai militanti del Movimento 5 Stelle di votare questo direttorio fino alle 19 per far sapere se approvano questa scelta in controtendenza rispetto a quello che è stato finora il Movimento 5 Stelle perché insomma tra i critici si diceva che era tutto gestito da Grillo e dalla Casaleggio Associati invece adesso ci saranno questi cinque nomi, questi cinque campioni che scrive Grillo si incontreranno regolarmente con lui e discuteranno della situazione generale per condividere le decisioni. Io mi trovo con Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, allora questa che cos'è? Una piccola rivoluzione copernicana all'interno del Movimento? Ed è nasce secondo lei dalla batosta elettorale che c'è stata in Romagna con il 13,3%, siete arrivati terzi dopo il PD e il centrodestra. Questa è la continuazione di un progetto, continuazione che era stata già annunciata sul palco da Beppe a Italia 5 Stelle, si era detto che appunto c'è la necessità di affiancare Beppe e Gianroberto perché le decisioni che dobbiamo prendere sono sempre più rilevanti, perché le riflessioni che dobbiamo fare sono sempre più gravose, perché c'è necessità di coinvolgere sempre più persone che siano anche nei palazzi e pertanto si è deciso di allargare al novero dei parlamentari la corresponsabilità di alcune scelte, sono stati i proposti dei nomi e adesso in maniera del tutto democratica e rivoluzionaria si chiede a tutti quanti gli attivisti certificati che cosa ne pensi. Secondo me questo è un ulteriore esempio di come sia vincente la democrazia diretta perché si domanda ai cittadini esattamente che cosa loro vogliano, poi si farà quello che loro vogliono. Quindi adesso il motto del Movimento 5 Stelle fino ad ora è stato uno vale uno, adesso non è più così perché ci saranno sette persone compreso Casaleggio, Griglio e gli altri cinque che varranno un po' di più di uno. No, io direi che ci saranno sette persone ancora più impegnate con fortissimo senso di responsabilità a tirare il carro della rivoluzione in Italia perché noi, ci tengo a ribadirlo, siamo una rivoluzione innanzitutto culturale e poi di conseguenza anche politica. Per chi non l'ha capito mi dispiace perché io noto delle formidabili resistenze in chi vuole essere istituzionale legandosi ad un concetto che per noi è conservativo di realtà che dobbiamo superare. Noi dobbiamo sempre più coinvolgere i cittadini, dobbiamo sempre più corresponsabilizzare e far compartecipare alle scelte che sono sempre più di tutti e sempre meno di pochi. Il fatto stesso che si stia allargando questa storia di responsabilità va in quella direzione e noi ogni giorno di più lavoriamo in quella direzione. Sono ancora fresche le espulsioni di Paola Pinna e di Massimo Artini che negano di aver sottratto i soldi dello stipendio da parlamentare al fondo per le piccole e medie imprese. Le sembra giusto come metodo espellere in questo modo anche se consultando la rete due parlamentari che comunque poi erano stati eletti comunque? Allora su quanto è avvenuto di recente io la penso in questo modo. Noi stiamo crescendo e crescendo bisogna anche saper fare delle rinunce, dei tagli. A noi non interessa la quantità, interessa la qualità. Piene due per educarne cento? No, 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 io non voglio avere la presunzione di educare nessuno. Io non sono il detentore della verità ma ricordo a me stesso che nel movimento tutti quanti abbiamo accettato delle regole. Queste regole per i due ex colleghi fino al 31-12-2013 andavano bene per cui hanno rendito contatto sul sito apposito dopodiché hanno deciso che non andavano più bene. Non è così che si fa, le regole vanno rispettate soprattutto quando si decide di accettarle. Se poi uno le contesta, le deve contestare all'origine. Mi dispiace per i colleghi, umanamente, ma il movimento deve andare avanti in quella direzione. Ringraziamo Nicola Mori.